Vogliamo parlare di grandi castelli? Questo in tutta la sua magnificenza inizia là dietro, già alberi e prosegue. Questo è il castello di Rivoli, il motivo principale per cui molti vengono a visitare questa cittadina. Io sono nel bel mezzo di una rotonda attorno a cui girano le auto. Ho già rifatto la ripresa 3-4 volt perché ogni volta arriva un grosso SUV o 3-4 auto che fanno un gran frestuono attorno a me. Comunque, normalmente questa albana è molto molto pacifica, è molto molto verde. Ok, andiamo dentro a vedere che cosa c'è di bello. Tra le altre cose, questa è stata anche la residenza dei Savoia ai tempi della monarchia in Italia. Del resto, essendo a soli 12 km da Torino, che fu anche capitale dell'Italia molto tempo fa, era inevitabile che lo frequentassero. La costruzione è davvero incredibile. Lo vedete quel palazzo là in cima sulla collina? Quello è il castello dove ero prima e adesso invece siamo nella parte opposta di Rivoli. Mi trovo al momento su Corso Francia ed è il corso che porta direttamente a Torino e qua il traffico già è nettamente in aumento. 12 km, mi tocca perfino urlare. 12 km si arriva fino a Torino, basterebbe tranquillamente una bicicletta o un buon camminatore. Invece la parte vecchia di Rivoli è della parte opposta. da quella parte opposta.